Come migliorare il grado di umanizzazione delle strutture di ricovero della ASLBAT? Il progetto di ricerca Agenas, coordinato dalla Respuglia e presentato all'ospedale di Barletta, è nato con l'obiettivo di ricavare informazioni utili agli enti pubblici che tutelano la salute per costruire un legame di fiducia sempre più solido tra il cittadino e le strutture ospedaliere. Il progetto ha verificato nell'anno 2017 la presenza nei nosocomi di Andrea Barletta e Biceglie di servizi, processi e logistiche funzionali ad una giusta relazione con il cittadino paziente. Se siano quindi effettivi ed efficaci servizi quali il supporto psicologico, terapie intensive aperte, strumenti di valutazione del dolore, assenza di barriere architettoniche, punti di accoglienza tutela della diversità linguistica. L'attività di ricognizione sul campo è stata effettuata da equip locali costituite da operatori sanitari con la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato. I risultati del monitoraggio sono in linea con la media regionale ma sono diversi i fronti sui quali lavorare per migliorare accessibilità, comfort e formazione del personale nei presidi ospedalieri della BAT. Portiamo avanti questo progetto nel segno della centralità del paziente e dell'utente, facendo sentire il paziente un po' meno in ospedale e un po' di più a suo agio, con l'adozione di alcune strategie, alcuni metodi che sono poi anche molto semplici, se vogliamo, che sono collegati a un fatto comportamentale, un fatto anche educazionale. Ma soprattutto la rivoluzione passa attraverso l'adozione di modelli organizzativi interni che devono essere anche misurabili, che devono cominciare anche a essere monitorati, ma che si fondano essenzialmente sulla presa in carico del paziente in maniera totale, completa e con l'adozione anche di misure semplicissime, semplicemente facendo sentire il paziente al centro vero delle attenzioni. Sono diverse le associazioni del territorio che hanno presentato piani di miglioramento per la ASLABAT. Per esempio la cosa fondamentale è gli orari di accesso per i parenti dei pazienti, anche l'idea di avere all'interno della struttura dei luoghi per il culto, dei luoghi differenziati anche per diversi culti, anche la possibilità di dare, di creare delle brochure multilingue per eventuali pazienti non italiani. Abbiamo individuato nei nostri piani di miglioramento medio, a breve, cioè ciò che si può realizzare in poco tempo e a costo zero, a medio termine con un'aggiuntiva di spese che comunque vanno a migliorare quello che è l'accessibilità, il comfort, la vivibilità nella struttura ospedaliera e quello è un po' più a lungo termine, laddove ci diamo dei tempi un po' più lungimiranti, da cominciare a realizzare proprio all'interno dei vari reparti. Proprio su questa struttura noi stiamo già lavorando con dei progetti, anzi dei programmi che è la tango terapia per pazienti chiaramente in terapia e che sta volgendo al termine il primo percorso del primo anno, così come stiamo portando avanti questo progetto del Lilt Rehab Point, che è un progetto dove ai pazienti oncologici, ma è un contesto praticamente non utilizzando medicinali, ma con lo yoga della terapia, con il fit walking e con gli incontri psicologici.